Una buona giornata a tutti voi cari telespettatori di Fano TV sintonizzati ogni giorno tutte le mattine dal lunedì al sabato in diretta alle 7.30 sul canale 17 per seguire la rassegna stampa che ormai da 11 anni vi tiene compagnia ogni giorno e allora cominciamo come sempre con la lettura del calendario del giorno diamo uno sguardo al santo anche perché poi ci si prende spunto per gli auguri ma in realtà oggi sarà un po' difficile Santuribio de Mogroveio il sole sorto alle 6.05 tramonterà le 18 e 24 minuti avremo un cielo sereno poco nuvoloso oggi con possibilità di precipitazioni nelle ore pomeridiane isolati rovescio temporali nei settori montani e medio collinari centro meridionali le temperature sono per oggi senza variazione di rilievo domani venerdì 24 marzo avremo ancora cielo inizialmente nuvoloso con nuvole basse in mattinata lungo il litorale centro meridionale della regione poi nel pomeriggio la nuvolosità si dissolverà tornerà il sole le temperature sono stazionarie poi sabato sabato vedete il tempo peggiora peggiora sulla parte appenninica della regione sulla costa limitatamente al centro insomma avremo deboli diffuse precipitazioni nel pomeriggio e temperature senza variazioni di rilievo poi probabile lunedì ancora un po' di pioggia allora cominciamo a leggere adesso vediamo subito i giornali la conferenza stampa ieri mattina a pesaro della guardia di finanza per fare il punto il bilancio dell'attività svolta nel 2016 la finanza stronca i tentacoli delle mafie questo il titolo sul coreo adriatico l'edizione di pesaro indagini mirate e silenziose sul territorio rinvenute imposte in evase per 27 milioni poi a centro pagina la fotografia della sede della regione marche il tara zera la regione annullato il concorsone bando illegittimo 13 dirigenti in discussione sotto la testata lo sport l'umiltà del fano e la carta vincente per la salvezza e poi entriamo dentro nelle pagine del coreo adriatico sempre dal primo piano di pesaro scoperti 58 nominativi sconosciuti per il fisco rintracciate imposte in evase per oltre 27 milioni di euro vedete il colonnello Antonino Raimondo a capo della compagnia appunto la guardia di finanza di pesaro nonno coraggio ha salvato il nipote di sette anni dal feroce pitbull il piccolo morso alla testa e ancora ricoverato all'ospedale il proprietario si trovava con tre cani al parco di montecchio proseguono gli accertamenti dei carabinieri saranno ascoltati i testimoni che hanno assistito all'aggressione stroncato un traffico di falchetti chiuse le indagini quattro le persone indagate è il primo filone i braconieri sono cacciatori con la passione della falconeria sul mercato i pulli di falco pellegrino venivano venduti a peso d'oro l'altra pagina quella del furlo che si ve che furlo che vede l'europa è la prima riserva naturale statale a ricevere la certificazione per il turismo sostenibile il presidente della provincia di pesaro tagliolini dice il cez che è l'acronimo che sta per carta europea del turismo sostenibile stimola i territori a lavorare di squadra la pagina di fano la natalità cala quasi del 10 per cento ora all'asilo c'è posto per tutti per la prima volta le richieste sono inferiori alla disponibilità e dunque sono state composte classi addirittura ridotte se continuerà il trend è chiaro che in futuro qualcosa verrà meno il personale è stato confermato nei 20 istituti statali e comunali a vantaggio della didattica poi sotto la notizia da fano sulle polveri sottili l'aria che respiriamo l'aria che a volte purtroppo ci fa anche ammalare in due mesi 40 sforamenti i dati delle centraline anti smog stazionate posizionate in via montegrappe bellocchi il movimento 5 stelle adesso chiede provvedimenti l'altra pagina di fano la cronaca con il processo per la morte di una donna di fano morì per una moragia interna quattro medici ora sono sotto accusa fissata l'udienza preliminare per il decesso di giuseppina pisanelli che era ricoverata al torrette di ancona secondo il pubblico ministero la donna poteva essere salvata per la difesa invece la richiesta è incomprensibile dalla valle del cesano gli anziani sono sempre più poveri a causa di tasse e tariffe locali i tributi territoriali secondo la cisla incidono per il 15 per cento su pensioni medie di 800 euro al mese mentre a senigallia si sveglia e mette in fuga i ladri durante la notte una fortuna dicono adesso raccontando la vicenda non averli visti c'è stata questa irruzione nella casa di un geometra della provincia i malviventi hanno preso soldi e gioielli getta rifiuti dall'auto caccia ad un fantasma perché perché un residente ha preso la targa di quest'auto che dalla quale è volato questo questo sacco di spazzatura ma il proprietario del veicolo risulta morto e quindi adesso sarà difficile riserire intesa raggiunta invece sulla pagina di urbino da monte grimano terme intesa raggiunta con l'ospedale di san marino sulle emergenze nel pacchetto anche i ricoveri programmati e le visite specialistiche quattro comuni sul titano abbiamo cercato dice luca gorgogli gorgolini sindaco di monte grimano terme abbiamo cercato di garantire la sicurezza dei nostri residenti e adesso apriamo invece la pagina delle pagine del resto del carlino questa è la prima la prima che riguarda e mette in primo piano il caro parcheggio piazzale carducci e san benedetto ancora più a pagamento l'opposizione però accuse il comune di pesero di fare cassa sotto invece anzi sotto la testata sopra alla fotonotizia ville con piscina e grandi suv scoperti così gli evasori totali la finanza segnala 58 contribuenti fantasma e un'inchiesta per spreco ad urbino sotto due ragazze sfilano una collanina ad un anziano avvicinato con garbo e derubato nei pressi dell'ufficio postale di marotta le pagine interne allora da fano la notizia di uno sciopero della rainer che ha bloccato alcuni studenti della quinta a dell'istituto tecnico commerciale battisti di fano in gita con il professor giovanni rondini a berlino sono stati bloccati per questo sciopero quindi questo fuori programma un giorno in più di vacanza ma il ritorno è stato un po un po problematico una luna per esempio è stata fermata in aeroporto dalla polizia pensavano che avesse della droga ma il test era tarato male questa è la prima pagina di fano del carlino va ad ancona invece per una visita e muore il giorno dopo quattro medici a giudizio la vittima di 60 anni soffriva di una patologia epatica la procura dice l'accusa evidenzia ritardi e l'omissione di procedure dettate dal quadro clinico e dunque è arrivata ad ancona questa è la notizia del che troverete a pagina nella pagina del pagina 13 del resto del carlino tutto quello l'odissea che ha vissuto questa famiglia che ora piange questa ancora questa vittima questa donna di 60 anni poi invece sulle sulle multe che vengono fatte al semaforo queste multe con la videocamera con lo scatolotto che sta sopra appunto in viale primo maggio il cartello della segnaletica è c'è c'è qualcuno diceva è però non viene segnalato no invece c'è lo dimostra anche questa fotografia c'è questo cartello con la segnaletica al margine della strada è considerato però poco visibile e comunque poco leggibile e comunque non si parla in questo cartello di multe il cartello è invisibile questo è il titolo ok andiamo adesso invece sulla sulla altra pagina del resto del carlino la pagina di vaffano e vale del cesano dicevamo di questo agguato davanti alle poste nel mirino un anziano di 70 anni è successo a marotta in via genova poche mattine fa un pensionato di 70 anni dicevo era appena uscito dalle poste quando gli sono fatte incontro due ragazze apparentemente dai 25 ai 30 anni con la carnagione olivastra e capelli lunghi raccolti a coda erano sorridenti garbate insomma l'uomo non ha dubitato nulla poi insomma è andato avanti ha parlato eccetera alla fine insomma è stato gli hanno sfilato la collanina che sono abilissime queste donne sono abilissime basta che appoggiano insomma un braccio una mano insomma ti distraggono ti imbambolano come come se nulla fosse bisogna stare molto attenti e questa era l'ultima pagina della nostra rassegna stampa dal resto del carlino quindi ci fermiamo qua vi ricordo che stasera le 20 e 30 c'è il nostro telegiornale e che al 338 4968 250 potete inviarci le vostre foto i vostri video le vostre segnalazioni che per la nostra redazione come sempre sono molto importante anzi ne approfitto anche questa mattina per ringraziarvi perché siete davvero in tanti ogni giorno a segnalarci tutto ciò che vi accade attorno dagli incidenti purtroppo alle situazioni di strade dissestate o quello che sentite di dover comunicare noi ci fermiamo qui a voi tutti gli auguri di una buona giornata e a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti